Salve a tutti ragazzi, qui TTD e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione JAP di Dragon Ball Z Dokkan Battle per andare a vedere assieme Revegeta! Revegeta della Vatch di Dragon Ball Heroes! Visto che Dokkan me l'ha voluto dare ad ability, ragazzi. Gli ho dato un po' di ability, non gli ho dato SA, non ho Kai da spercare su questi personaggi, però gli ho dato almeno l'ability 1. Visto che ha anche un bel tenchino stupido, nel senso, gli ho dato un dicevese. Andiamo a provarlo assieme in Team Pure Saiyan! È l'unica categoria che ha questo Revegeta! Andiamo a provarlo assieme, andiamo a vedere come se la cava, come se la cava, quanto tank e io ho paura! Anche perché oggi ci sono i fisici ed è proprio la prova finale per questo Revegeta che dopo un colpo tankerà! Fa il suo, è un tank e sono alcuni pg belli, no? Ovviamente lo giochiamo insieme a Broly LR, in quel modo almeno linka un pochino! Un pochino! Proprio un pochino! No, non linka, lo so che non linka, lo so. Però lasciamo perdere, ragazzi. Abbiamo ovviamente Tarles e Tora, i migliori buffer di tutto il gioco. Le abbiamo dentro al Team Pure Saiyan, andiamo a divertirci. Ho due ki, attenzione, vedremo la special! L'unica cosa brutta è che questo, più che uno showcase... Sì, è uno showcase di come tanker in un Pure Saiyan, per dire. Però, più che uno showcase, è più un... Guardate che bello! Docca me l'ha spammato! Le ho dato l'ability! Non gli darò l'SA! Se avrò dei ki da parte, prima o poi gli darò l'SA, ma per ora può stare lì proprio... Vabbè, sta lì. Lo usiamo per un video. Addio! Mai più Vegeta! Re Vegeta! Allora, Broly arriva al terzo turno. Buono, 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 buono. Buonissimo, ok. Teniamolo anche primo, che vabbè, tanto il boost è solo la difesa. Teniamolo così per ora, ragazzi. Intanto poi abbiamo un Vegeta che gira, perché ho voluto mettere solo un LR. 314.000, vabbè. È anche tantino, anche tantino. Vediamo, vabbè, sì. È bello comunque che abbassassi all'attacco e alla difesa. Quindi è molto carino come PG. È veramente carino, soprattutto perché comunque, ragazzi, offre qualcosa. Offre qualcosa come PG. Peccato veramente che è un tank per il pure Saiyan. Cioè, ragazzi, il tank per il pure Saiyan è la cosa più inutile che esista. Veramente. La sigla dice, sì, però... Tank pure Saiyan, seriamente! Cioè, c'era di meglio. Teniamo pure Vegeta, teniamo pure Vegeta qui, ragazzi. Facciamo queste due turnazioni con Ray Vegeta Broly e Vegeta Blue con Goku Ultra Instinto. Li andiamo ad usare qualche volta, no? Un team pure Saiyan meno LR. Però ci divertiamo, no? Qualche volta ci mettiamo lì a giocare un po' di cose strane, come Ray Vegeta. Grazie ancora a Dokkan. Volevo una copia. Una copia della... Una, eh? Non ne chiedevo duecento. Una. Però... Però Dokkan ce ne ha date tre di sto Ray Vegeta. Dobbiamo provarlo a sto punto. Cioè, è l'unica cosa. Ci attacchi per primo. Ma neanche! Ma neanche me lo fai provare, praticamente! Va bene, teniamolo in mezzo, Broly. E non lo so, ragazzi. Io non posso provare questo Ray Vegeta. Non mi è possibile provare questo Ray Vegeta, ragazzi. Ci posso far poco. Intanto, Broly qua carica un bel po'. Un bel po', ragazzi. Qua Broly si sente felice. A casa sua. Decento e Decento e Decento e Decento e Decento e Decento. Sì, non farà mai danni. Oh! 13.000! Vabbè che è un tech su un int. Ora si è attivata la passiva per quindi quattro turni. Quindi ormai tre turni. E attiva la passiva, quindi tankerà. A posto. Ora dobbiamo solo vederlo su un Gohan fisico. Dobbiamo vedere cosa succede su un Gohan fisico. Com'è la situazione, no? Mi tanka un Gohan fisico? Che non è uno di questi Dock and Event che fanno tantissimi danni da fare. Oddio, aiuto. No. Vabbè, in realtà sì. Dipende da qual è. È il mio o è il friend ad ability? Ovviamente è il mio. Cosa voglio? Che cosa vuoi? Che si trasforma quello buono ad ability? Ma dove? Ma in quale mondo? Cioè, ragazzi, è sempre la sfiga di sto Vegeta. Io lo uso. Lo voglio usare, però è... Più lo uso, più sfigo. È incredibile, ragazzi. È veramente incredibile. Questo Vegeta ha le grandi prese in giro. Le grandi prese in giro. Intanto, go contra istinto. Quando vuoi, se vuoi shottare, fai piazza pulita. Ok? Buono. Bravissimo. Ok, ci siamo, ragazzi. Eccolo qua. Gohan fisico. Siamo qua per questo. E io ho paura. Molta paura. Due attacchi. Tankerà o non tankerà? La domanda è questa. Mandiamola anche l'indiciotto intanto. La domanda è questa. Tankerà o non tankerà questo Re Vegeta? E va di... Ok, un colpo normale è 2000. Un colpo normale è 2000. Ma la special se la mangia completamente. Proprio si muore da quella special, ragazzi. Wow. Ok. Vabbè, la domanda l'abbiamo risposta. Tankerà o non tankerà? Tankerà i colpi? E in Road non li tankerà, quello è ovvio. E non tankerà le special. Ora però, ora però, dobbiamo comunque provarlo a vedere ancora. Cioè, non è finita qua. Dobbiamo farlo tankare un po'. Voglio vederlo contro attacchi normali, non contro roba che fa paura, no? Diciamo roba che fa paura. Poi per modo di dire, una special. È comunque un Pure Seam con 400.000 di vita solo perché c'è un LR, ragazzi. Cioè, 400.000 di vita non si mangiano. Cioè, non vanno giù. Mettiamola così. Però è un Pure Seian, in un'ipotetica road. Questo Vegeta, quanto potrebbe essere utile? Soprattutto a Full Ability. Quella è la domanda che mi sto facendo io, no? Quanto può essere utile, in realtà? A Full Ability anche. Buono, buono Vegeta, buono Vegeta intanto. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Ci siamo. Non mi tirano la special, per favore? Grazie. Fammi solo sto favore. Solo sto favore, ok? Re Vegeta. Il bello è che comunque linka abbastanza bene, eh. Con Broly linka abbastanza bene. Un Buddy ce l'ha in Pure Seian. Broly e LR linka abbastanza bene. Ok. È la domanda. Non mi fare la special? Evasione intanto, attenzione. 34.000. Non era attiva la passiva. 34.000. Ragazzi! Lasciamo perdere il 100 di danno. Ragazzi, è rischioso, eh. Parlandoci chiaramente, è un po' rischioso giocare questo Vegeta. E io non so sinceramente quanto a Full Ability posso offrire, veramente. Ripeto che Dokkan mi ha preso in giro quando mi ha voluto dare questo PG ad Ability 2. Bellissima su Broly, guarda. È proprio la scelta top. Grazie mille, Gohan. Non lo so, Dokkan, quanto mi volevi prendere in giro nel darmi Full Ability questo Re Vegeta. Va bene, ok. L'abbiamo accettato. Tancheggia! Fra molte virgolette. I danni comunque non li andrebbe a fare, ragazzi. È comunque neanche un tour, è un UR. Non è che va a fare tutti questi Grandani come tutti i PG di Iros. L'unica... Tora, ma proprio vai a quel paese, Tora. Però, ora come ora, ho trovato anche Goku, Super Saiyan 3, Xeno. Lo potremmo di certo utilizzare. Peccato, è senza Ability, quindi non è che potremmo vedere molto. Aspettiamo l'Ezza di Vegeta per dare i 10 Kai. E là, la trasformazione di Goku Ultra Instinto, intanto. Aspettiamo l'Ezza di Vegeta per dare i Kai a quel Goku Xeno e provarlo. Sono senza Kai. Assolutamente senza Kai. Quindi, sono un attimo in questa situazione brutta. Vai pure, Vegeta, tieni. Ti do tutto il ki che vuoi, ok? Fai le cose belle. Tanto qua, voglio tirare un Dokkan. Se riesco, tiro un Dokkan. Ragazzi, voglio tirare un Dokkan con Re Vegeta. Cosa finale! Cioè, finiamo il video con un Dokkan di Re Vegeta. Sarebbe la cosa più bella. La cosa più bella. Rimani in vita. Fatemi tirare un Dokkan con Re Vegeta. Lo voglio fare a sto punto. Fatemelo fare! Per favore! Per favore! Goku, non crittare! Non lo fare minimamente! Fammi tirare un Dokkan con Re Vegeta. Per favore. Ok! Sì! Dokkan Mode! Con Re Vegeta, ragazzi! Andiamo! Andiamo, ragazzi! No! Te ti trasformi! Ora manca il ki! Ora manca il ki! Che brutto! Re Vegeta! Re Vegeta, no! Ok! Andiamo! Re Vegeta! Oddio! Abbiamo il boost attivo? Sì, dovremmo avere il boost attivo se non sbaglio. Ok! Re Vegeta Dokkan Mode per chiudere il video, ragazzi! Andiamo! Ah no! Ora si è attivato il boost! Che brutto! Prende danni, eh! Prende danni senza la passiva attiva! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Andiamo! Re Vegeta! Dokkan Mode! Non me l'aspettavo veramente di tirare un Dokkan Mode! Con tutta la sincerità! Andiamo! Bella comunque la special, ok! Carina! Tutto quanto! Centomila! Ah ah ah! Ok! Va bene! Un-sputto di... Re Vegeta ragazzi! Veramente ottima carta! Grazie mille Dokkan per avermi dato! Re Vegeta! Grazie mille! A sto punto mi poteva dare veramente l'ability per Goku e per Vegeta Xeno. Sarebbero stati veramente ottimi Ragazzi comunque direi che per questo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle è tutto come sempre Spero che il video vi sia piaciuto Ditemi la vostra su Ravegetta Scrivete qua sotto nei commenti E lasciate tanti bei mi piace Commentate e iscrivetevi Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram Tutti i link sono sotto in descrizione E ragazzi se vi servono delle stone per Dragon Ball Z Dokkan Battle versione JAP O per Dragon Ball Legends Ragazzi controllate il link in descrizione al gruppo Facebook E infine se volete seguirmi in live ragazzi potete controllare il link in descrizione al canale Twitch Live quasi ogni sera alle 21 Detto questo noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti